Ciao ragazzi, questo è un video di presentazione. Volevo comunicare ai miei iscritti che ho attivato un abbonamento che prevede un primo livello con un costo simbolico di 99 centesimi. L'abbonamento assolutamente non è obbligatorio, ma è facoltativo. Chi aderisce all'abbonamento ha la possibilità di interagire in maniera più diretta con il mio canale. Avrà la possibilità di inserire emoticon personalizzate ed emoji. Vi ripeto ancora che l'abbonamento assolutamente non è obbligatorio, ma facoltativo. E a me darete un incentivo maggiore per portare nuovi video sul mio canale. Ciao!